Buongiorno ragazze e bentornate sul mio canale YouTube. Oggi vi voglio portare con me in uno dei negozi Vittoria Secret che ho visitato a Los Angeles in una delle mie gite. Vittoria Secret è un marchio americano di abbigliamento femminile e di prodotti di bellezza. Di recente sta aprendo anche dei punti vendita in Italia ed è noto soprattutto per le sue creazioni di lingerie. Qui in queste immagini vi mostro alcuni dei bra che appunto propone in colori moda, molto carini, adatti sia per il fitness ma anche appunto come semplice bianchia intima. Non tutti lo sanno ma Vittoria Secret è stata fondata addirittura nel 1977 da Roy Raymond e non di sua moglie gay. Vittoria Secret come vedete propone lingerie per donne di tutti i tipi, dalle donne più morigerate alle donne più audaci e i colori sono sempre colori moda e le fantasie sono veramente molto allegre. Io vi dico la verità non ho fatto acquisti ma comunque ho visitato vari punti vendita. Di recente, anzi non di recente, nel 2002 se non erro, l'azienda ha anche lanciato un altro marchio che è Pink. Pink è sostanzialmente un secondo marchio appunto di Vittoria Secret dedicato però alle teenagers o meglio alle donne tra i 15 e i 22 anni. Ecco qui il marchio Pink, come vedete ha prodotti un pochino diversi da quelli di Vittoria Secret e spesso adatti proprio per il fitness. Ragazzi questo breve video spero che vi piaccia, fatemi sapere se voi avete fatto acquisti presso Vittoria Secret, lasciate un like e non dimenticate di partecipare al mio giveaway che verrà chiuso a raggiungimento dei 1.300 iscritti, fra i premi anche un bellissimo set di pennelli Real Techniques. Grazie ragazze, a presto!